La notte che son partito non ho dormito pensando a te Avevo un po' sentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti Temevo di non vederti Di giorno sono arrivato, non sei venuta incontro a me Non sai quanto ho camminato, chiedendo a tutti, cercando te Sentivo di non trovarti Capivo di non vederti Lo sa soltanto il cielo per te Dovevo potrino volarmi di te La notte che son partito non ho dormito pensando a te Avevo un po' sentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti Temevo di non vederti Se adesso tu mi lasci è finita per me La notte che son partito non ho dormito Lo sa soltanto il cielo per te Dovevo potrino volarmi di te La notte che son partito non ho dormito pensando a te Avevo un po' sentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti Temevo di non vederti Se adesso tu mi lasci è finita per me Secondo me sta male Secondo me sta bene Ma su una lampada da nave Se lo sapevo invece delle finestre ci facevo gli oblo Ma è allegra Non le fa allegria? No, proprio no A me le lampade da nave mi danno solo il mal di mare Oh, ecco Andrea Ciao Ciao tesoro Ciao Andrea Salve Mica male, eh? No No, dico mica male le gambe di mia moglie da sotto in su Viste in prospettiva Ma cosa voleva farti fare? La statua della libertà per vedere se ci sta bene? Ah beh, sempre meglio di quell'orrore di lampada che vuol metterci lei Architetto fammi piacere di non dire certe cose Mia moglie ha molto buon gusto, ha sposato me Senti, vuoi vedere i progressi? No, grazie, diciamo che mi fido di te Poi se scendo metto subito un piede nella calce riva Dai tesoro, fa presto, dobbiamo cambiare E la mia macchina? Te la faccio portare io a casa più tardi Ah, benissimo, a domani architetto A domani signora Mi dispiace caro mio, ma te la devo proprio portare via Pazienza E questa lampada, mi dia retta Non la comperi Ne ho già comprate, sei uguali I muratori non possono far niente se non finisce il falegname Il falegname non può far niente se non finisce l'elettricista E l'elettricista non può far niente se non vanno via i muratori Sì, e noi entreremo quando saranno andati via tutti quanti E cioè quando saremo due bei vecchietti come quelli del cacao talmone Ma no, stamattina hanno già portato il cancello Che però non si può montare perché non c'è ancora il muro di cinta E il muro di cinta non si può alzare finché il cancello Mi dice, la sedia a dondolo fa casa borghese E allora, a me piace Dice, scelga o me o la sedia a dondolo Scelgo la sedia Il dondolo mi calmi i nervi, lei me li fa venire Ho detto bene? Andrea, mi senti o no? Sì, sì, ti ascolto Cosa dicevo? Parlavi dell'architetto, no? Sì, ma fai bene La casa deve piacere a te, mica lui Senti, non ti sembra un po' troppo aperto, scollato, così? Beh, sta benissimo E poi c'è, bello Lasciamolo guardare, no? Non bisogna essere egoisti Almeno tu sei giovane C'è quella befana della baronessa Che porta le scollature fino al ginocchio Come sei esagerato Le portano ormai fino al seno Appunto Invece tu Povera baronessa Che bella moglie che ho Proprio bella, sai? Per fortuna non ho messo il rossetto In compenso però hai messo il vestito Senti, se no non andassimo più al circo Questa conferenza No, basta Andrea Mi sono già truccata Andrea, dai Ma prima mi provo che non andassi così Dunque Orbene signori In Italia il cappello non si porta più In Italia il cappello Non lo si porta più Ah Però La sua utilità È innegabile Protegge dal sole Dalla pioggia Dalle tegole E dal raffreddore Evita la calvizie E se non la evita Perlomeno la nasconde Serve per salutare Per occupare un posto in treno Insomma È il turaccelo dell'uomo Il tetto della sua personalità Quando mio nonno Nel 1872 Fondò il cappellificio Artusi Il cappello Era un indispensabile Segno di stile Di distinzione Per gli uomini Di ogni età Bene Attualmente Noi fabbricanti italiani Riusciamo a produrre Tutti insieme Lavorando a pieno regime Una media Che si aggira Intorno ai 50 milioni Di cappelli l'anno Questa cifra Naturalmente comprende Non è stato di parola Aveva promesso di mandare Un bitter a mio marito Ma dopo lei ci viene A trovarmi in carcere Per assolvere Questi 50 milioni Ogni italiano Di sesso maschile Dovrebbe portare Anuncia Ha visto che la moglie De Mariotti Ha cambiato un'altra volta Il colore dei cappelli Eh già L'ultima volta L'hanno vista in macchina Con un giovanotto biondo Ora sapete dirmi Dove vanno a finire Tutti gli altri cappelli Un mio amico E' andato nel Texas E si è portato in Italia Come ricordo Un cappello da cowboy Bene Arrivato a Milano Si è accorto Che nell'interno C'era scritto Made in Italy Proprio così E' arrivato il momento Di far sapere Che i cappelli Di Richard Widman Di John Wayne E di Burland Caster Sono fabbricati Ad Alessandria A Brescia E a Castelvetro Ho finito E' stato veramente bravo Complimenti Ci giuro E' la prima volta Che a una conferenza Del circolo Sono rimasto sveglio Eh si Infatti sbadigliavi soltanto A io? A tutti Interessante Che i cappelli Non sono poi una Brava così Si figuri come Dottor Galise La ringrazio È stata solo Un po' di pubblicità Complimenti Grazie Grazie anche a lei Caro Andrea Le mie congratulazioni Anche tu Ah ma non credere D'avermi convinto Continuerò a non portare Il cappello Male Molto male Perché ricordati Che un dottore Senza cappello Non dà nessun affidamento Te lo dico io Sera Bravissimo Cos'è successo A suo fratello? Ah niente Si è chiuso due dita Nella portiera della macchina Voi medici Perdere due dita Non è niente Ah ma non l'ha mica persa Gli sono rimasti un po' così Stai attento Certo Forma d'oro Caro Mariotti Come va? Signora Io sono uno del 20% Ah si? Bene Molto bene Complimenti Ottimista il Mariotti Non sa che la percentuale Dei cornuti E' molto superiore Andrea Buonasera professore Arrivederla assessore Oh caro assessore E allora No non mi dire Che la commissione Non sia ancora riunita Perché allora mi arrabbio Per cosa? Per il muretto E dai E quante volte te lo devo dire Che la giunta comunale Ha un regolamento edilizio E che deve farlo rispettare Ma che noia vi da un muretto Scusate perché vi ostinate A chiamare muretto Una costruzione Di 50 metri per quattro Bene chiamiamolo a loro Questo permesso Per la muraglia cinese Va bene Assicuro che è quasi impossibile averlo Comunque tu prova A corrompermi Chissà Chissà che non senti fuori qualcosa Come facevamo quando andavamo a scuola E tu mi passavi il compito Io ti davo la merendina Ciao Bravo bravo Chissà che merendone ti fai adesso Filone quello lì Assessore all'edilizia Ah dottore Artusi Giusto lei Scusami cara Lo sa che devo proprio farle un rimprovero A chi? A me? Che cosa fa? Ma no era una scusa Ho bisogno del suo aiuto Per andarmene da questa noia Se lo dico io Mio marito non accetta Come presidente Si sente in dovere di rimanere E così dovrei proporlo io Guardi io non sono molto bravo A fare queste cose E dove andiamo? Se volete anche da noi L'importante è andarsene da questa tomba Almeno una volta al mese La conferenza dovrebbe farle una donna Quello che fa in casa Come impiega le sue giornate La più interessante sarebbe La conferenza della moglie di Cornadoro Oh come siete maligni Non so la grotta via Beato Cosa c'è? Certo vuol dire Cristiana Dice se poi facciamo un salto No c'è le caviglie un po' grosse S'è le caviglie Messa proprio bene Altro che Beato chi se la gode E chi se la gode Quel broccolo del marito è basta Niente da fare Perché ci hai provato? Io no ma si saprebbe Figurati Ma si sa se Natale va a letto Con la camicia o col pigiama Immaginiamoci se va a letto con un uomo Mio marito sostiene Che la cultura è un fatto di insonnia Lei cosa ne dice professore? Suo marito dorme molto? Abbastanza Allora la signora me la porto via io Basta che me la renda presidente Ho solo quella Ci vediamo a casa Allora la signora me la porto via io Accidenti mi sono dimenticato D'andare all'ufficio del registro Vabbè ci andrò domani A cosa sta pensando? Io? Pensavo a lei Ne vuole una? Grazie Gliela accendo Però mica male la signora Cristiana Non me ne ero mai accorto Devo esserle anche simpatico Anch'io stavo pensando a lei La stavo osservando Il carattere di un uomo si vede anche dalla macchina che ha E che cosa vede? Macchina scatante e uomo un po' meno Ah ma allora questa vuol proprio provocarmi Eh ma non si fidi sa Guardi che io posso anche Posso anche fare il matto guardi Ci seguono? Forse ci inseguono Li lascio passare avanti Bene Non è meglio così Da dietro si può vedere senza essere visti Ah perché lei do il parere che è meglio vedere E essere visti E già Oh non c'è nessuna ragione per nascondersi Non le sembra A meno che A meno che Posso anche aver sbagliato Forse lei è capace di avere qualche scatto Mi scusi sa Non può darsi che sia meno noioso di quello che sembra Oddio proprio non ci sono dubbi E se sto zitto faccio anche la figura del fesso Beh visto che lei giudica gli uomini dalla macchina Tenga presente che la mia è i sedili ribaltabili Può fermare qui? Qui? Ma dico è matta Ma io fermo Siamo arrivati Peccato Proprio adesso che cominciava a farmi la corte Vabbè possiamo sempre ricominciare E' una razza fiammingo della prima metà del Settecento Ho avuto la fortuna di trovarlo a Parigi Quattro anni fa Proprio un'occasione E questa spinetta viene da Venezia Poco più di due milioni E' regalata Con tutti questi regali avrà speso un patrimonio Per carità Senta se deve fare acquisti per la sua nuova casa Potrei aiutarla io Darle dei consigli I mobili antichi sono il mio hobby Credevo che i suoi hobby fossero le presidenze Ne ha fatto una bella collezione lei Non è così? Credito bresciano Ente del turismo Circolo dell'Unione Rotary Golf Clabaltino Quelli dimentico Basta basta Non ce ne sono più Lei ci scherza Ma sapesse a volte quante seccature Spesso è proprio impossibile rifiutare Sai in una città come questa Tutto finisce per essere portato sul piano personale Comunque la mia bella passione sono io Anche davanti al marito Non mai ho l'occhio Come se niente fosse Una moda natura Il fondo di un cassetto E capisco tutto Di che cosa capisci tutto tesoro? Dei mobili antichi Ah Enrico devo lavorare solo io vero? Cosa dici? Venga Andrea Volentieri Venga ad aiutarmi Andiamo a staccare un po' di ghiaccio Se mi da anche un grembiolino Sarò una perfetta cameriera No sul serio Lei non ha neanche idea delle mie virtù Lei ha delle virtù? E cucina Ho una piccola delusione per lei E cioè? Dovrà veramente aiutarmi a staccare il ghiaccio Beh con lei sarà anche questo un piacere Chi c'è? Valeria Tutto a fare 19 anni, robusta Pulizia personale un po' scarsa Lei interessa? Ma noi ne abbiamo una fissa da 40 anni Sarà una vecchia mumia ormai Vuol mettere? Venga a vedere Su avanti Quanti entri? Niente male, vero? Rustica ma tutta autentica Sottoveste di canapa Calze nere con elastico Sembra ci sia un luto in famiglia Niente regissino Si può svegliare? Non abbia paura Dorme come un sasso Cosa ne dice? Ma no Andrea Cosa ne prende? Ma no Ma non faccia così Un altro giorno Ti prego Ci vediamo un altro giorno Come prima ti trovo che Io vado con la cameriera Sai? L'ultima volta che ho ballato con lei È stato esattamente tre anni fa Quando si è sposata Portava un abito rosso Mi pare Che memoria Per me è stata anche l'ultima volta Che ho ballato Andrea non è quello che si dice Nato per danzare Beh mi sembra che se la cavi Egregiamente E allora? Dove vuoi che ci vediamo domani? Ma uno solo Se vorrei In albergo va bene? In albergo? Sei matta? È pericoloso E ci possono? Non ci possono Sta tranquillo A dieci chilometri da qui Al grande hotel Impero Nessun pericolo Arriva alle cinque precise Cerca di essere puntuale La macchina la puoi lasciare Davanti alla porta dell'albergo C'è un parcheggio Trovi sempre posto Ma anche se ci sono Tante altre macchine Sistemala tua Con la parte posteriore Contro l'edificio Così se passa qualcuno Vede solo la targa davanti Quella piccola Che nessuno riesce mai a leggere Ti fai dare una camera qualsiasi Purché non sia al primo piano Lì c'è la direzione Ed è più facile incontrare gente Scrivi il numero della stanza Su un biglietto C'è uno scrittoio Nella hall vicino al portiere Poi consegni la busta A uno dei fattorini E gli dici di portarmela Dal paducchiere L'ascensore serve anche Il piano inferiore E io posso salire direttamente Senza destare sospetti Buongiorno Buongiorno Scusami sai Se mi trovi così Ho pensato di Di fare prima Ieso Sì No non per me L'ho fatto per te Per non farti fare tardi Di solito è l'uomo Che non vuole fare tardi Senti Cristiana Ieri sono stato io Ad aiutarti a rompere il ghiaccio Adesso E adesso tocca a te Mi aiuti Mi aiuti Non mi riconosci Ma sì Eh sì È la roba È la roba di Valeria La cameriera Sì sì Ma io sono la cameriera Sono Valeria Ah sì E allora io chi sono Tu Potresti essere Mio marito Che va a letto con la cameriera Ah perché il presidente Ha di queste distrazioni Ma che Niente È fedelissimo Non ha nessuna fantasia Beh capirai Come il presidente Eh sì Proprio così Sottoveste Rumida Di canapa Calze A lutto E se non sbaglio Niente reggiseno Niente reggiseno No Non accendere la luce Maria Grazia Tesoro Questa non è casa tua Io non sono tua moglie Perché come ti ho chiamato Finché chiami me Con il nome di tua moglie Il guaio è se ti capita il contrario Pronto? Signorina mi vuol dare il 22 4 37 per favore Non chiamare mai le donne per nome Di sempre tesoro Così sei sicuro di non sbagliarti Pronto? Pronto sei tu tesoro E mio marito No non sono ancora pronta Beh diciamo tra mezz'ora Va bene? Beh se tardi qualche minuto ti aspetto Senti Non ti arrabbierai mica per quello che ho fatto oggi Grave? Eh sì grave Mi sono fatta accorciare i capelli Ma di poco Vedrai Sì? D'accordo A più tardi Ciao tesoro Certo che gli erai combinata bella grossa Farti tagliare i capelli Ma di un po' dovevi proprio farti venire a prendere dal tuo marito Ma certo è stato lui che mi ha accompagnato qui Ah beh allora in questo caso è giusto che torni anche a riprenderti Mi figli in giro? No per carità dicevo soltanto così Mi sembra impossibile che tuo marito non abbia dei sospetti Capirai? Un albergo a 10 km dalla città Di questo genere poi Cosa c'è di strano? La mia parrucchiera si è trasferita qui E io l'ho seguita come tanti altri clienti Beh almeno la parrucchiera si è rimasta fedele Voi uomini ci sospettate solo quando siamo innocenti Ma siccome tu non sei innocente allora Mio marito non sospetta niente Io faccio il comodo mio e siamo contenti tutti e due Mi giudichi male vero? Non sono mica io tuo marito Anzi così siamo contenti in tre Vuoi che ci rivediamo? Sì sì certo Per me anche domani Tesoro non posso mica andare tutti i giorni dal parrucchiere Mercoledì va bene? Sì Cristi Sì tesoro Bravo Ma cosa fai? No No Senti Io però un'altra corciatina i capelli gliela darei sai Il profumo di Cristiana E anche francese Ma no Eh sì e quando va più via Ma guarda questa maniglia di rinforzio lasciare segni, ma perché mordere, perché dico io, meno male che sembra una sgranatura della barba. Ah, sarà una bella sorpresa, perché ho notato che sua moglie non ha la stola di cincillato. Eh sì, invece io ho notato che sua moglie non porta mai i cappelli. Eh, l'occhio del mestiere, eh. Eh già, con la sola differenza che lei per un regalo se la cava con 10.000 lire. E io invece, ecco, guarda. Beh, però questa costa un milione e gliela do per 800, un bello sconto se permette. Oh, non dico di no, però io in cambio preferirei darle 80 cappelli. Senta, non c'è un auto led qui? Sì, di là. No, devo solo lavarmi le mani per pacco, perché ho toccato il motore della macchina. Si accomodi, prego. Ecco, lì a sinistra. Qua, grazie. Mi ha cercato, signor Mariotti. Ah, alla buon'ora. Ho chiamato subito dopo pranzo, perché il televisore si è guastato ancora. E la Rude fa una scappata domani. Domani, domani. Mia moglie è rimasta a casa tutto il pomeriggio. Siamo senza donne, lui ci va domani. Subito ci devi andare. Eh, se la signora è rimasta in casa apposta. Va bene, va bene, ma non si arrabbi che ci fanno. Va, va, la Zarù. E fai le cose fatte bene. Cosa vuole? Io con la televisione rotta non ci so stare. E pensi che ne abbiamo due, eh? Uno nel salotto e l'altro nella camera da letto. E si è rotto naturalmente quello della camera da letto. E lei come lo sa? Oh no, niente così, mi buttavo a indovinare. Senta, dopo lo vuole un po' di profumo. No, no, per carità. Già la saponetta è profumata, mi dà fastidio. Scusi tanto. Buonasera, signora Artuzzi. Ciao, Giovanni. È bellissima. Ma perché? Però sono un po' matto, eh. Perché un po' matto? Dovevamo pur festeggiare, no? Che cosa? Il coso, l'anniversario. Che giorno è oggi? 12 giugno. E noi ci siamo sposati? 2 febbraio. Allora sono due anni, quattro mesi e dieci giorni di matrimonio. Cosa sarebbero le nozze d'alluminio? Non me la conti mica giusta. Non avrà mica qualcosa da nascondere questa stola? Ma dai, non dire stupidaggine, cosa vuoi? Cosa vuoi che nasconda? Ah, però ti ringrazio. Io ti faccio il regalino e tu mi ricambi così. Già, ma non capisco perché proprio oggi. Ti devo dire, non lo so. Sarà forse perché oggi mi sono sentito un marito fortunato. E per forza. Ho una moglie bella, giovane, fedele. Ah sì? E chi te lo dice che ti sono fedele? Eh, cosa fai, ti mi strozi. Senti, credi che la cena sia pronta? Credo di sì. Beh, allora dia alla cameriera che può mangiarsela lei. Ma come? Noi usciamo, mangiamo al ristorante. Poi andiamo anche al night, perché stasera ci divertiamo. Tu metti la tua bella stola e un bel doppio petto blu. Oh, guarda che paghi tu, eh. Devi bagnare. E poi stiamo tutta la notte le mani nelle mani. Proprio come due che si vogliono molto bene. Perché? Ci vogliamo bene noi due? Beh, facciamo finta di volerci. Muoviti, dai. Come vuoi tu, tesoro. Lo sai, no, che ho sempre avuto un debole per te. Ho solo una cosa da risponderti. Sii forte. Ci proverò. Ma il fatto è che sono sempre stato battuto dalla concorrenza. Non sei mai venuto a comperare da me. Hai preferito sposare il tuo caro Andrea. Se un giorno o l'altro vengo a sapere che hai anche un fleur con qualcun altro... Cosa farai, sentiamo. Beh, certamente mi verrà un complesso di inferiorità. Più che un complesso, nel caso tuo sarebbe una presa di coscienza. Dai, dov'è questa meraviglia? Ah, sì. Spero almeno di avere più fortuna come antiquario. È una splendida credenza Luigi XIII, de Capea, sportelli e cassetti. Proprio quello che ci vuole per il salotto della tua casa nuova, sai? Vedere per credere. È autentica? Come i miei sentimenti. Allora andiamo a Maluccio. No, no, sul serio, la credenza è autentica. Se avessi visto in che stato era quando l'ho presa... Naturalmente ha bisogno di essere pulita, restaurata. Ma è un pezzo unico, sai? Se no, non te l'avrei proposto. No, no, lascia, faccio io, ti sporchi. Vedi? Qui c'è un cassetto segreto. Se hai qualcosa da nascondere a tuo marito... Lo so, le mie lettere d'amore, per esempio. Mai ricevute, per fortuna. Non te ne ho scritte? Beh, allora la mia fotografia. Già, invece di portarla sempre qui sul cuore. Lo sai che sei simpatica? Cosa vuoi di più da una donna? Beh... Eh, no. No? No. Confezionati... Con... Con misticismo, oserei dire, eh? Guardi, guardi, monsignore, guardi. Guardi un po' che riflessi, che lucentezza. Guardi. Guardi il verso del pelo. Vedo, vedo. Eh, naturalmente questi costano un po' più cari. Sai, questo... Diciamo così, è il modello classico. Noi lo fabbricchiamo fin dal 48. Pensi che a Roma soltanto ne vendiamo ogni anno... Quasi 5.000. Ah, capisco, ma... Se avessero la falda... Un po' più stretta... Sarebbero, come dire... Più allegri. Ma, monsignore, veramente questi non sono cappelli per... Da... Da cotioni, perdoni. All'ogni modo, se permette io... Io glielo faccio vedere, eh? Ecco qua. Ecco. Cosa le dicevo? Lo vede come era triste? Beh, con tutto il rispetto è anche un po' colpa della faccia. Eh sì, in parte è vero. Ma i numeri li ha segnati? Come no? Ecco di qua, sono già pronti. Dunque, dicevamo, no? 150, numero 55, è vero? Dunque 120, 58 e poi 602, 59. Dico, ne avete parecchi di capoccioni in seminario. Venga, venga, monsignore, l'accompagno in amministrazione. Ma perché? Devo regolare subito. Oh, per carità, ci mancherebbe altro, eh? Magari tutti i soldi fossero così sicuri. Prego, prego, si accomodi. La vostra è la banca del paradiso. Grazie. Prima di convincere la gente a comprare un cappello, bisognerebbe convincere a portarlo il cappello. Ci vorrebbe una campagna a carattere collettivo, come fanno con la birra, con il cuoio, con le patate. Perché non fa la proposta alla federazione? Ma se sono anni che lo dico, eh, non mi vogliono ascoltare. Bisognerebbe trovare uno slogan, non so, per esempio, l'uomo non è bello se non porto il cappello. No, non questo, ma voglio dire, insomma, uno slogan per impostare la campagna. Cosa c'è? C'è monsignor Angelini. L'ho fatto accomodare nel suo ufficio per la firma. Vado subito. Grazie. Le campagne collettive, eh? Già. Ma le campagne collettive non servono a niente, mio caro. Idee originali ci vogliono. Perché non le trovi tu, le idee originali? Infatti, nel 34, chi ebbe l'idea di mettere una lobby sul busto del Duce in piazza? Tu? Però ti sei preso due anni di confine. Sì, ma intanto tuo padre guadagnò il 30% in più delle vendite. Ciao, Andrea. Eh, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sai cosa ho trovato oggi? Ciao. Il cassettone, da Gabriele. Da chi? Da Gabriele. E' bellissimo, il cassettone. Ma lo credo bene. Ci mancava altro che trovassi bellissimo Gabriele, con la specie di grissina. Non mi è mica molto simpatico, sai? Ah, tutto pieno di salamerecchi, baciamare. Consolati, anche lui ti trova antipatico. Cos'è questo profumo? Il sapone di Gabriele. Mi sono lavate da lui. E perché ti sei lavate? Ho toccato i mobili e mi sono impolverata. Ma dico, con tanti antiquari seri che ci sono, proprio da lui dovevi andare. Perché non è serio Gabriele? Beh, forse no. Oggi mi ha anche fatto la corte. Ah, e scommetto che lei è anche incoraggiata. Bravo. Vorrei proprio sapere come hai fatto a indovinare. E tu che cosa fischi? Aida, atto terzo, marcia trionfale. Vero porco, sto gran signor Ducca. Ma come? Ave tre mesi che scrive? Veniamo oggi, veniamo domani. Ma almeno a farci vedere la figlia per l'ultima volta, no? Come si avvisse a vivere un'altra cent'anni. Sta poveretta. Ma è giusto il proverbio che dice lontano dall'occhi, lontano d'o'core. Ci ha rubato la dote e la figlia. Ma era la prima volta che ci andavi. Da chi? Da Gabriele. Ah, sì, perché? Già, già. No, no, così per curiosità. Mi fate parlare, per piacere. Allora, scusa. Come facevi a sapere che c'era proprio quella credenza? Me l'ha detto la moglie del presidente. Quello sta aspirando un simonio intero. Quando l'ha incontrato Cristiano, scusa? Al circolo, non c'eri anche tu? Ah, sì. Scusa, mi sto seguendo. Pieno di debiti fino a qua. Ma come? Dopo la terza puntata ancora segui. Almeno... Se non ti piace posso cambiare. D'altra parte c'è un documentario. Non lo hai avvertito. ...perdiamo le grandi chiese romaniche del Viterbese. Come San Giovanni... Sai quanto me ne frega mia delle chiese del Viterbese. Santa Maria Nuova e la Cattedrale. E poi perché proprio quelle del Viterbese? Quelle del Grossetano, no? Grazie. Ecco fatto. Valeria e il giardiniere sono usciti per commissione. Adesso siamo proprio soli. Ma dimmi un po', che cos'hai? Perché? Ma scusa, ti rendi conto? Mi telefoni che muori dal desiderio di rivedermi, ma subito, oggi stesso. Io faccio i salti mortali per organizzare tutto e da mezz'ora te ne stai lì senza nemmeno guardarmi. Non riesco proprio a capire, sai. Cosa ti è successo? No, niente. Pensavo a tuo marito. E sai che cosa pensavo? Ma è possibile che non si accorga mai di niente? Mai, mai. Ma sei un bel tipo, sai. E ti riscaldi anche. Mio marito non se ne accorge e basta. Beh, se trattassi lì una volta lo capirei, ma sempre. Perché adesso, diciamocelo pure, io non sono certamente il primo. Non essere volgare per cortesia. E poi vorrei proprio sapere cos'è che vuoi. Sembra che ti dispiace. Ma cosa c'entra? Vedi, quello che voglio dire è che se mia moglie mi tradisse, me ne accorgerei subito. Ma perlomeno avrei dei sospetti. E questi sospetti li hai già? Sì. No, 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 no. Cioè no. No, no, no. Nel modo più assoluto, mai. E appunto per questo dovrebbe essere una dimostrazione che mi è fedele, no? Non ti pare? Perché scusa, secondo te, una moglie che tradisce il marito? O puoi fingere di essere innamorata? Non è mica necessario fingere. Io per esempio sono molto innamorata di mio marito. Tu innamorata di tuo marito? No. Ma allora scusa, perché? Beh sai, così. Se fossi sposata con te, forse mi piacerebbe proprio un uomo come lui. Ah. Vabbè, tutto sommato, vi conviene che le cose stiano così. Ma per esempio, a parte la scusa del parrucchiere lì dell'albergo Impero, tu con tuo marito quale altre scuse trovi? Non so, per esempio oggi, cosa gli hai detto? Che andavi dalla santa? Da un'amica? So, per esempio che andavi dall'antiquario? Perché ti preoccupi tanto di mio marito? Non sarai un po' preoccupato per te? Io preoccupato, figura. Ah, non lo so. Mi sembra che tu non riesca a parlare d'altro. Potrei anche offendermi, sai? Ma ormai sei qui con me. Ma non potevi scegliere una musica un po' più allegra? Perché? Con Vivaldi è più bello. Ma dai, lascia andare, va. Ma no, parliamo, parliamo. Ma come fuori? Sono le otto passate. Avrà lasciato detto qualche cosa, no? No. Tu sai rispondere soltanto di no. Non ha lasciato un appunto. Vuoi vedere che rispondi di no? Ecco, lo sapevo. Sì. Ma cosa ne so io, Maria Vergine? Questo se la prende sempre con me, Gesù, Giuseppe, Sant'Anna, Maria, santi patroni dell'anima mia. Se l'ha buttato Maria Grazia, vuol dire che ce l'aveva. Se l'aveva vuol dire che ce lo conosce. Se lo conosce vuol dire che ce l'è stata. Ma no, è impossibile. Eppure. Maria Grazia, l'albergo impero. Come Cristiana. Maria Grazia, l'albergo impero. Ma no, è il seguito. Eppure. 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 Però il colmo, tradisco mia moglie eppure sono io a sospettare di lei Ma sì, ho trovato un depriando all'albergo e con questo, che prova è? Niente, neanche un indizio Oddio, che cosa faccio? E' un'apperti Questo l'ha segnato aperte E senza nome 32, 3, 5, 8 32 32 è la zona di Monpiano E poi No, no, no. Porca miseria. Pronto che parla? Pronto che parla? Pronto che parla? No, no, no. Vai così, va. 32, 3, 5, 8. Ciao, Giovanni. Buonanotte. Come la strada, signorina, eh? Se conoscessi la strada, conoscerei anche chi ci abita, no? Allora mi do il nome dell'abbonato. È bravo, il nome dell'abbonato. Ma se lo sapessi, non starei qui a chiederglielo. Lo voglio sapere da lei. Andrea Artusi, tua moglie è qui. Ciao. Ciao. Come mai così tardi? Vediamo un po' se il marito ritardato riesce a indovinare. Scommetto che sei andato dal parrucchiere. Sì, quello di quel nuovo albergo, come si chiama, l'Impero. Ma come, non lo vedi? Il mio parrucchiere è Alfredo, lo sai. E allora, scusa, questo che cos'è? Una pubblicità, arrivata ieri per posta. Per posta? Sì, ne è arrivata anche una per te. Ecco. Hanno soldi da buttare, dato che abbiamo una casa, anzi due. Non vedo perché dovremmo andare in albergo. Allora, sei riuscita a indovinare? Ho proprio una bella sorpresa per te. Ah sì? Sì. Ai, 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 ai. L'ultima tua sorpresa sono stati due pesci d'argento da 400.000 lire. Sta tranquillo, questa volta non ho speso un centesimo. Ecco qua. No. Siamo autorizzati ad alzare il muro di cinta come vogliamo. Ma non è possibile. Senza limitazioni. Ma come? Scherziamo? Ce l'hanno rifiutato per un anno e mezzo. Hai capito quel gesuita dell'assessore? Siamo mezzi parenti, abbiamo fatto le scuole insieme. Con me, per carità, non possiamo calpestare i regolamenti. Arrivi tu e... Dovresti sapere che le belle donne tengono quello che vogliono. Sì, e tu dovresti sapere che ai mariti delle belle donne gli possono anche girare i cosiddetti. Ma come parli? Invece di essere contento? No, non sono contento affatto. Ma sei strano, non avrai un po' di febbra? Ma no, non ho niente, non ti preoccupare. Sto benissimo. Sto molto bene. Anzi no, sto male, sto malissimo. Ecco. Ma no, sto male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso... Non posso... Non posso... Non posso... Non posso... E tu allora... Eh no, rispondi giusto. Io ti ho fatto una domanda e tu devi rispondere alla mia domanda. Hai detto non posso. Che cos'è che non puoi? Ho... Ho già un barile. Cosa? Matelo chiaro. Ho già un barile. Portare il barile? Cos'è che vuol dire portare il barile? Dai su, parlo chiaro. Ma chi devi portare il barile? Ti do al tuo maritino a chi devi portare il barile. Non avrei mica conosciuto qualche binario? Comun주a me. Mh. Io ti do al tuo maritino a chi? Chiude. Io ti do. Io ti do. forse eh a che? al fianco sinistro muto forse le donne ragionano col fianco destro chi lo sa mio 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 si 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 tesoro un momento mio 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 a me o mio 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 al vinaio un po' 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 hai visto ? anche oggi si è fatta 48 km in macchina ha detto che andava ad Altapeziere ammettiamo che abbia fatto 3 km 3 e 3 e 6 concediamole anche un'altra commissione 12 durante gli altri 36 km che cosa ha fatto ? dove è andata ? prego Pule ecco per la firma va bene grazie dove è andata ? eh ? eh ? senti Andrea è inutile che tu insista ti ho già detto mille volte che io di pedinare tua moglie non me la sento va bene ? prima perché mi ripugna poi perché è una cosa assurda se tu sei pazzo queste cose te le fai da te io non posso chiaro ? va bene basta non ne parliamo più non ne parliamo più però un povero marito avrà diritto di sapere dove va sua moglie no ? poi accidenti 38 anni il primo favore che ti chiedo ah si ? il primo ? ah 38 anni di favore vorrei dire il primo il primo me l'hai chiesto quando avevi ancora i calzoni corti avevi rubato 5 lire dalla cassa io ti pizzicai e tu mi pregassi di non dire niente a tuo padre ladro ah no basta stop argomento chiuso eh ? grazie a proposito domani facciamo la verifica di cassa eh ? come ? dicevo domani facciamo la verifica di cassa domani ? si scusa che fretta c'è domani domenica beh e con questo ? non lo sai che c'è il torneo di bocce e a me cosa me ne importa del torneo di bocce qui i favori non se ne fanno più a nessuno deciso allora è un ricatto ma che cosa credi ? belisario che a me faccia piacere cerca di capirmi belisario aspetta ecco fermi, fermi qui grazie io scusi per favore salirmi dove via ? hai sentito a nominare ? beh a che pensa ehi lei signore buongiorno buongiorno hai contravenzione ? ma si scusi ma ho una gran fretta e me no ? eh no ma io ce l'avevo quant'è ? mille lira in tre secondi ce la caviamo su è più di mezz'ora che sei infilata in una libreria e ancora non si decida ad uscire no no da qui si vede tutto sta tranquillo non perdo di vista un attimo il negozio ma si ma si ha fatto solo delle commissioni non ha incontrato nessuno non ha visto nessuno hai capito ? e allora che faccio ? eh ? se non esce resto qui tutta la notte eh ma dovrà ben chiudere la libreria no ? si si no per il resto tutto a posto eh ? sei stato attento non ha incontrato nessuno sicuro ? Andrea ? sono qui torna indietro imbecille Maria Grazia ? si ? che libro hai comperato ? come ? hai comperato dei libri ? ah no sono andata a Lupin sai che ho incontrato ? Peppino il figlio dell'avvocato Maimone tu lo ricordi ? poi ho visto il figlio di Caterina sai la cameriera di casa mia ? ah si ? si è fatto un giovanottone quasi non lo riconoscevo cosa fai con i Kleenex ? ah no credevo fossi il libro sai mi ha offerto anche il gelato ah insomma è stata la giornata degli incontri e questo è niente sai chi ho visto per setto otto volte ? chi ? belisario però lasciamelo dire un bel perditempo figurati che è rimasto venti minuti davanti a un'edicola si è quasi fatto investire due o tre volte poi si è preso anche una contravenzione perchè è passato col rosso pensa l'ho seguito per più di mezz'ora e nemmeno se ne è accorto e tu trovi tutto questo da ridere ? io lo licenzio lo licenzio è inutile quando il personale è vecchio, stanco è meglio che vada in pensione tanto i soldi non le va leggere e non lo licenzio mai non anche però ci siamo non Grazie a tutti. A loro ho fatto bene a seguirla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andrea, cosa c'è? Come? Come mai sei qui? Beh, passavo così, per caso. Signora... Lo vedi che sei l'unico uomo qui dentro? No, no, no. Ci sono anche quei due, guarda. Poi pensavo di trovare un po' di tovagliati. Hai già scelto qualche cosa? No. Camicia soffizionata. In traspir nylon color verde acqua, con profonda scollatura e ricca incrustazione di pizzo. Però sarebbe stato bello. Che cosa? Che tu mi stessi sorvegliando davvero lì all'albergo. Sì, sono proprio io il tipo. Quando si vuol bene si è sempre un po' gelosi. Perché? Avrei un motivo per esserlo? No, assolutamente. Ma io, per esempio, lo sai che sono un po' gelosa di te? Beh, ma... Così, senza ragione. Non lo so. Da un po' di giorni non stai mai in fabbrica. Appena esco esci anche tu. Se telefono, Belisario dice che sei fuori, non sa dove sei andato. Non posso raccontare tutti i fatti miei a Belisario? Certo, ma tua moglie non è Belisario. Beh, sai, vado per lavoro. Esco dalla fabbrica. Non voglio sapere niente. Io mi fido ciecamente di Andrea. E tu ti fidi ciecamente di Maria Grazia? Sì, sì. E invece no, non mi fido. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo proprio di conoscerli. Ah sì? E cosa ne dice? Non sono poi tanto originale. È possibile che voi uomini non sappiate pensare ad altri. Ci sediamo? Sì. Un sacco di gente, eh? Guarda un po' questo cappellaio, che razza di villa che si è fatto. Beh, io certo di soldi non ce ne ho messi. L'ultimo cappello che ho portato è la cuffia. Ho delle sedie di ferro del Settecento, napoletane. Qui in giardino starebbero benissimo. E per la piscina non ce l'avresti un bel trampolino del Settecento? La raccomando, Maria Grazia. Prima voleva i finti ruderi romani. Poi è finita per metterci i rampicanti, tanto per guastarmi il ritmo della facciata. Prego. Allora beva per dimenticare. Complimenti. Ressa su con un gusto straordinario. Si sente il tocco di Maria Grazia. E cosa ne sa lui del tocco di Maria Grazia? Buonasera, come sta? Bene, grazie. Sera. Ma almeno le gambe se le potrebbe coprire, no? Eh? Tira ancora più su. Certo che con una moglie come quella potrei stare veramente tranquilla. Buonasera, signora. Sera. Buonasera. Buonasera. E quello lì cosa vuole? Adesso ti porto anche il binocolo, eh? Ne sono accorti anche i marionni. Chissà il vereno che stanno tirando fuori. Maria Grazia è in forma, eh? Stasera è proprio bella. Bella e onesta. Tu in una donna così ti do... Ci dovrai specchiare, ho capito. Ah, parlavamo proprio di suo amore. Ah, sì? A tutte le qualità. Lo dico sempre a Wanda che dovrebbe prendere esempio da lei. Ah, ah, ah. Visto bene tutto? Tutto cosa? No, dicevo, si è visto la villa. Le piace? Il giardino, la piscina. Vero che le piacciono anche le donne, molto. Mi tolgo una curiosità, lei è mai stato a Parigi? No. No? Ci vada, dato che lei apprezza. Sa perché certe volte noi ci montiamo la testa per un pezzettino di cosci. Mentre invece a Parigi tutte nuve, completamente, da capovievi. Ci vada, Parigi, ci vada. Però mi sembra proprio che dopo la svolta sinistra, un gusto così ostentato. Signore. Buonasera. Siamo a sorridere. Una volta tanto a Gabriele ha raccontato una barzelletta divertente. Andrea forse la sa, magari me l'ha raccontata proprio lui. No, non credo, io non racconto mai. Due amici si incontrano e uno dice sai, ieri ho visto tua moglie, ci siamo fatti tante risate, ma tante risate che quasi cadevamo dal letto. A me non mi fa ridere, mi spiace. Io la trovo divertente. Scusi, lei è sposato? No, lo vede? Questa è una barzelletta che fa ridere soltanto gli scapoli. E allora signora, quella promessa? Ah, sì, certo, professore. Non pensate male, andiamo soltanto a visitare il piano superiore. Venite anche voi? Come il dottor Galise? Assessore? Mi scusi. Però guardate che mancano ancora tante cose. Il camera da letto, per esempio, cioè quanti sono in letto? E quello è l'essenziale, no? Prego. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Le parlavo dei tappeti di giaguaro. Ah, sì, sì, sì. Ma vede, io non ho molta simpatia per i tappeti. Sono antigenici, ricettacoli di polvere, poi ci si inciampa sempre. Una mia cugina si è rotta una gana, sai? Oh, sì. Cosa succede, ma cosa succede, cos'è questo mortorio, è un'inaugurazione o è un'inaugurazione o è già arrivato lo sfratto? Andrea, Maria Grazia ti ha sposato proprio perché eri sempre allegro. Ah, e si vede che anche lei ha fatto come quel tizio, ha commesso un errore. Lilli, in quel vitino! Lilli, in quel vitino! Bravo, svegliati un po' tu, facciamo un gioco. Sì, perché non facciamo il gioco della verità? No, no, è che finisce sempre... Oh, meglio quello della posta. Facciamo capolimone, lo conoscete? Capolimone? Capolimone, due limoni, mezzo limone. E' sicuro che è divertente, è un gioco nuovo. Così facciamo una bella spremuta. Eccomo quello della posta. Se volete ne propongo uno io. Dov'è? Ah, eccolo qui, l'avevo preso apposta su In Comune e lo stavo dimenticando. Che roba è? Il modulo di una contravenzione. Allora, una domandina facile facile per Andrea. Senti un po', cosa ci facevi la sera del 24 marzo alle ore 21 in sosta in via delle Mura del Castello? In via delle Mura del Castello un uomo sposato. Maria Grazia. Se fossi te io chiederei una spiegazione. Bene, giochiamo al processo. Cosa facevi lassù? Ma io non ci sono mai stato. Che storia è questa? Naturalmente l'imputato nega, è giusto. Fai vedere? Io assumo la difesa di Andrea. Ma questa non è mia. Ma come non è tua? Eh, la macchina è intestata a te. Sì, ma è la 600 che ad opera Maria Grazia. È tua. La macchina sì, ma la contravenzione no. Quel posto mi fa paura di giorno, figuriamoci di sera. Eh, no, no signora, troppo facile, la contravenzione esiste. Ah, si accusava ingiustamente il mio difeso. Dai Maria Grazia, dici tutto. Su, dillo cosa facevi. Del resto è un gioco, no? Poi sarei curioso di saperlo anch'io. Andrea, ma stai scherzando? Alle nove di sera sai benissimo che non è possibile. Avete visto Andrea? È bravissimo nella parte del pubblico ministero, sembra vero. Un momento, un momento. Chi è che difende la signora? Sempre io, difendevo il marito, difendo anche la moglie. Allora, in questo caso, io farò il cancelliere. E le signore faranno da giuria? Ah, bene. Allora, cancelliere, vogliamo procedere alla lettura? Sì. Il giorno 24 marzo 1964, in località Via Mura del Castello, alle ore 21, la signora Arturi Maria... Ma basta, basta con queste buffonate! Ma che gioco è questo? Vabbè, sarà stato uno sbaglio, sa qua la faccia annullare. Ma che annullare? Io la contraddizione era sempre pagata. Andrea, cosa ti prendi? Silenzio, tutto. Su, dai, era solo un gioco. E vabbè, è un gioco stupido, non mi piace, ecco. Le cose ci volete fare? D'accordo, non so giocare, ma non facciamo la lunga, per favore. Non facciamo la lunga. Ma cambiamo gioco, facciamo quello del capolimone. Un limone, due limone... Prendo un liquirino, è passato tutto, sa? No, grazie, se hai fatto tardi. Buonasera. Mi dispiace. Sicuro, è molto meglio se ce ne andiamo tutti. Rimanete soli voi due. Però non vi passeggiare. Ma come, se ne vanno anche loro? Eh sì, per noi si è fatto tardi. Sono scherzi stupidi, come si suol dire tra moglie e marito. Ma guardi, io non me la sono mica presa per quella sciocchezza. Ci mancherebbe altro. Semmai sono io che ogni tanto ne combina qualcuna. Diciamo la verità, cosa vuole tra noi uomini? Vabbè. Senta, mi creda, sa, ma anche suo marito ha una faccia da birbante. Buonasera. Humberto, cosa succede? Come mai se ne vanno via tutti proprio adesso che cominciavo a divertirvi? Staci, staci, non farti sentire, dopo te lo spiego. Vieni via, vieni. L'avevo detto io che era meglio giocare a Capolimone. Non mi ascoltano mai? Spessi di Maria Grazia, spessi di Maria Grazia. Adesso se Dio vuole lo specchio si è rotto. Tu puoi specchiarti anche in quelli rotti, va. Andiamo. Andiamo. Per me è anche stupida. Poteva dire di aver bucato una gomma invece di negare in quel modo. Ciao. Ciao, che pane. Chi se lo sarebbe immaginato di scatenare quel popò di putiferio? E tu scusa, vai a parlare di corna in casa di Caproni? Perché tu credi che Maria Grazia... Io non credo niente. Non sei una signora di notte. Se è con la macchina alle mura del castello, dico... Ma beh, certo. Hai visto come era diventata? E lui poi? Ma si vede che ha la coda di paglia. Poveretto, chissà quante altre ne saprà. Chi ve lo dice? Come fate a parlare? Io non ci crederei neanche se l'avessi vista. Invece io penso che non ci si possa più fidare di nessuno. A questo punto, guarda, di oneste ci sono solo le nostre mamme. E neanche, ci sono tanti di quei figli di puttana. Hai detto qualcosa? Io niente. Eh già, naturalmente tu non hai niente da dire. Io no. E io invece sì. Ho molte, molte, ma molte cose da dire. E allora anch'io se lo vuoi sapere. Tanto per cominciare non sapevo di aver sposato un pazzo irresponsabile. Ah sì, eh? Il pazzo irresponsabile sarei io. Comodo, comodo girare la frittata. Intanto tu non hai saputo difenderti di fronte a 15 persone. Difendermi da che cosa? Non lo so io. Loro scherzavano. Sei tu che hai perso la testa. Quando eravamo nell'altra casa, io ho sempre lasciato la macchina nel garage del capello Ifficio. Ah sì? E mai dopo le otto. E allora la macchina della contravenzione che cos'era? Una macchina fantasma? E non è la sola cosa. Ricordati che io non sono come il cuoco del convento e gli toccano la moglie e due contento. Con me i frati non battono un chiodo. Ma cosa stai dicendo? Lo so io quello che dico. E tu lo sai meglio di me. Comunque io non escludo nessuno, per principio. Senti, non è possibile. Ti è davvero successo qualcosa? E se anche mi fosse successo qualcosa? La colpa di chi è? Mia! Ma quale colpa? Non gridare! Allora parla! Qui c'è una sola persona che ha diritto di gridare. E sono io, capito? E lei non continua ad andare giù e giù! Ma sì, poi cosa credo a fare? Tanto tu neghi continuamente anche l'evidenza. Poi la colpa è mia. È logico, troppa libertà. Fanno bene in Oriente. Mogli sotto chiave e guardiani castrati. Bene, se cerchi le forbici sono nel cassetto del Trumot. Dottor, vado a rabere il cancello. No, prendo quella. L'alfalè non la sa guidare così fregata. Porco giù del blocco a sterzo. Di un po', ma tu la fidanzata ce l'hai? No, dottor, non ce l'ho. Ma le ragazze ti piacciono? Certo che mi piacciono. E di un po'. Ti piacciono così le donne di servizio oppure anche le signore, eh? No, no, dottor, le signore non so cose per mia. Ci sono anche quelle che ci stanno, sai? Beh, l'uomo è uomo, no? Bravo, mi piaci, sei un ragazzo in gamba. Grazie, dottor. Domani lo licenzio. Benissimo, stia tranquilla, signore. Salve, Mariotti. Oh, buongiorno. Buongiorno. Mi raccomando, signore. Non sarà mica arrabbiato ancora per la faccenda di ieri sera. Oh, si figuri, non parliamone neanche. A proposito, guardi, io ho cambiato idea, sa? Per quei tappetini di cui mi ha parlato. Ah, allora non sono il solo, anche lei ripensa alle cose. No, volevo soltanto fare un regalo a Maria Grazia. Ha avuto uno scatto di nervi e allora è giusto che cerchi di farmi perdonare. Ma certo, la capisco benissimo. Guardi, guardi qua, che meraviglia, eh? Questo qui foderato viene un tappeto splendido. Bello, bello. Eh? Bellissimo, eh? Eh, sì. No, non vorrei che qualcuno ieri sera avesse potuto equivocare. Sa, per quella faccenda. Lei sa com'è pronta la gente a far subito delle maldicenze, a fare delle chiacchiere. Lei poi è uscito con loro, quindi avrà sentito tutto, immagino, eh? Beh, proprio insieme a tutti gli altri, no, io ero un po' distante. Vabbè, dico, ma ha sentito che cosa hanno detto? No, non chiami interessi, per carità, insomma. Non si preoccupi. Quando si ha una moglie giovane, bella, una bella casa, gli affari vanno bene, bisogna sopportare un po' di maldicenze. Sapese quante ne dicono di me? Beh, quando c'è una ragione, lo capisco. No, dico nel caso mio di Maria Grazia, di ragioni non ce ne sono proprio. No, sia ben chiaro, io per Maria Grazia potrei mettere le mani sul fuoco, eh? Assolutamente. No, no, sul serio. Oddio, certezza al cento per cento non c'è mai, questo si sa. Piccolo, piccolissimo dubbio rimane, no? Beh, sì, è naturale, per quanto? Per quanto? Beh, oddio, in certi casi piuttosto che il dubbio è preferibile la certezza. Beh, ma come si fa ad avere la certezza della fedeltà della propria moglie? Sì, è difficile, ma si può essere sicuri della sua infedeltà. È vero? Eh, sì, meglio che il dubbio, almeno credo io parlo per me, capisce? Guardi, durante la guerra stavo al distretto e avevo un brutto incarico. Ero io che dovevo dare la cattiva notizia alle famiglie. Beh, i pareti dei morti dopo un po' si rassegnavano, già. Ma per quelli dei dispersi cominciava il dubbio, la speranza. C'è chi aspetta ancora dopo vent'anni. Sperano sempre. Beh, certo, in quei casi lì. Ma si faceva così per dire, eh? Poi io non ho nessun motivo per avere dei dubbi su Maria Grazia, e quindi... Beh, meglio così, no? Dunque, con questi tappeti cosa facciamo allora? Ah, ma ci rifletta con comodo. E poi ci si inciampa sempre. Si ricordi di sua cugina? Giordano? Giordano? E là che fai lì? Ehi, Stefano, dove è? Perché che fai i balletti verdi? Signor Andrea, le brioze erano finite. Ci ho portato i due cornetti. I cornetti li porti a tuo padre. Vai, 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 via, 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 via! Non prendo più il caffè. Pronto. Pronto? Pronto! Sono sicura che è lui. Controlla se sono ancora in casa. Ma perché? Gli avessi dato almeno una ragione. Certo, è terribile sopportare la gelosia di un uomo senza nemmeno il vantaggio di tradirlo. Mi fa rabbia sentirti parlare così. E poi non credo che sia un vantaggio. Hai mai provato? No. E allora Damiretta va là. Ma è ingiusto. Lui sa bene che non so dire le bugie. Non le sai dire perché non ne hai mai avuto bisogno. C'è gente che non sa nuotare, ma se la butti in mare impari immediatamente. Ti sbaglio, affogherei. Lo dicevo anch'io tanti anni fa. Oggi potrei fare a nuoto la traversata della manica. Signora Andrea, a che ora vuol pranzare? Quando vi pare, tanto io non esco. Neanche io esco. E cosa preparo? Ma cosa ne so io? Lo chiede alla signora. Io non ho appetito. Chiede al signore. Ma per me, io posso anche andare a mangiare al ristorante. Dice la signora che può andare a stoffegarsi dove vuole. Non l'ha detto, ma sono sicura che lo pensa. Sono sicura che lo pensa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Perchettura! Ma dov'è? Ma che miserie è rimasta su? Signore Andrea, ma sono ancora crudi? Li ho appena messi? No, no, li ho sacciati io, sono al dente! Aspetti che lei prenda una zuppiera! Ma non li condisci? Ma no, lascia fare, li condisco io! Signore Andrea Macuno! Ma è presto, sono solo alle sette! Mi dispiace, cara, mi dispiace davvero, ma adesso devo proprio andare via! Allora mi prometta che tornerà a trovarmi! Mio marito non è quasi mai in casa e io ho tanto bisogno di un po' di compagnia! Eh sì, ho capito che stai attraversando un periodo triste! Ci vedremo più spesso, te lo prometto! Posso presentarle mio marito? Molto piacere, signora Artusi! Piacere mio, reverendo! Signora, la vogliono al telefono! Chi è? Ma a dir la verità non ho capito! Sei ancora mia, e mi sai dare! Ecco, prenda! Ciao, come stai? Io niente! Dimmi! Dimmi tu! Ti ringrazio perché Quando vado via Sai aspettare E voi Ti assicuro, è di un facile eccezionale Una via di mezzo tra il surf e il tamurè Quando venga a trovarti te lo insegno Forse è meglio che passi il periodo di lutto Ma perché ancora? Posso anche capirti, guarda La certezza, la prova matematica Tutto quello che ti pare Però mi sembra che la cosa non stia in piedi da nessuna parte E perché? Ma come perché? Sei anche cretino E te lo dimostro Supponiamo che io accetti questa tua assurda proposta Da domani comincio a frequentare casa tua E faccio la corte a Maria Grazia Prima ipotesi Maria Grazia mi respinge Tu cosa hai risolto? Niente Può rifiutare me E poi andare a letto col primo fattorino che porta un telegramma Già E se invece si verifica il caso contrario E cioè Mia moglie viene a letto con te E in questo caso ti pare che lo vengo a raccontare a te? Mi faccio gli affari miei e sto zitto Brava Bella amica di sé E tu saresti capace di farmi una cosa simile Ma dico, sei stato te che me l'hai proposto, no? Di un po', i tuoi come stanno? Benissimo, grazie Tua moglie? È a cortina Sola? Sì Sola Io di mia moglie mi fido Lascia, lascia, prendo io Buon viaggio, Nessio Dio amico Fermi, fermi qui Ma dici, non doveva partire? No, sono arrivata Venga E che grazie, eh Grazie Allora lui mi fa Ma non ci piace ballare? Vuole che facciamo due passi? E te stupide ci sei cascata Foto Cosa dovevo dirci io? È due mesi che mi faceva il filo Anche la Rosetta diceva Cosa che? Cosa che? E io che ci ho detto anche un Ave Maria perché prendeva l'aeroplano Signora ma cosa fa, va via Sì esco E quando sorda? Non lo so Comunque vai a letto, non aspettarmi Forse sto fuori tutta la notte Ma tu guarda Sì esco So Oh 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 Grazie a tutti. Non perda di vista quella macchina. Ma dove andiamo? Alle mura del castello. Tenga. Grazie. Andrea. Andrea! Basta, finiamola, non ne posso più. Dove stai andando? Non lo so. Però quando sei uscita lo sapevi, eh? No. Mi sono accorta che la tua partenza era soltanto un tranello. Mi ha fatto rabbia o ho pensato di vendicarmi. Ero sicura che mi avresti seguito. Troppo comodo, cara mia. Questo lo dici adesso perché mi hai scoperto. Ma non lo vedi come ci stiamo comportando? Perché non cerchiamo di aiutarti? E va bene, aiutiamoci allora. Cosa credi? Non voglio altro. Dipende solo da te. Guarda, io sono disposto a dimenticare. Sono disposto a perdonare. Ricominciamo pure tutto da capo. Però voglio la verità, capito? Voglio la verità. Devi confessare tutto. Non ce la faccio più. Senti, Andrea. Io non sono migliore delle altre, ma di una cosa sono sicura. Se un giorno mi innamorasi di qualcuno, credimi, saresti il primo a saperlo. Troverai il coraggio per dirtelo. Ma tu pensi che una donna possa tradire il marito e rientrare a casa come se niente fosse? Sì, sì, sì. Lo credo, lo credo. E te lo dimostro anche, guarda. Se io mi mettessi a gridare Attenta, arriva tuo marito, vedresti metà di queste macchine schizzare via. Io lo schizzerai via. Ti aspetterei, ti direi tutto. E dimmelo allora. Parla. E va bene, sono ammalato, sono matto, d'accordo. Ma allora se sono ammalato, se sono matto, perché non cerchi di curarmi? Perché non cerchi di guarirmi? Perché? Piano, Andrea. È il dubbio, capisci? È il dubbio che mi fa impazzire. La certezza, invece, la realtà, per brutta che sia... Attento! Anche chi non crede in Dio sa che la confessione e il perdone spingono la colpa. Tu dici di essere religiosa. Scommetto che Don Mario, che non gliene prega niente, ti l'hai detto. Non corre così, ho paura. E allora parla? Parla! Voglio sapere con chi mi hai tradito. Ma così ci amazziamo. Meglio così la finiamo tutti e due. Voglio la verità, hai capito? Ma quale? La verità è... Attento, Andrea è il muro. Abbi almeno questo coraggio. Dimmelo e io mi calmo. Con chi? Con nessuno. Dimmelo. Su, questa verità. Dimmelo. Dimmelo che mi tradisci. E dimmelo! Sì, 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 ci tradisco. Con chi? Il carretto. All'altro, il carretto. Voglio sapere con chi? Con Gabriele. E ti farò confermati, per carità. Allora, è vero? Che cosa? Che mi hai tradito con Gabriele. Sì, è vero, è tutto vero. Lo vedi? Cosa ci voleva? Adesso posso anche parlarne. Cercare di capire. È ridicolo, ma... Mi sembra come di essermi liberato da un peso. Vedi un cieco? Quando riacquista la vista, è contento di vedere. Non gliel'importa di che cosa vede. Sì, insomma, ci si rassegna tutto. Anche alla morte. I dispersi, invece. Aspettano ancora. Sì, con la verità, si può rimediare qualsiasi cosa. Oddio, non dico che mi faccia piacere, questo no. Ma perlomeno non sto più lì a tormentarmi, no? Eh, quello che hai fatto è fatto. Non ci si pensa più. Adesso so come stanno le cose. E tutto è più semplice. Sono calmo. E ho messo il cuore in pace. Ma con quello no! Con quello no! Per Dio! Con tutti, guarda, l'avrei ammesso. Ma con quel disgraziato no! No, capisci! Troppo comodo, cara mia. Sono l'amante di Gabriele, sì. E io che cosa faccio? Vi do la santa benedizione. Vengo a rimboccarvi le coperte e a cantarvi la nimmeranna, vero? No, cara mia. Con Don Mario te la puoi chiamare con sette, otto, avemarie. Ma con me no, capisci! Perché io ti ammazzo! Basta! Non è vero niente! Vi ammazzo tutte e due! Tengo il palamutto! Vieni qua! Ma che ne ammazzi! Va, 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 sì, va, va. Va pure. No, no. No, no. Maria Grazia. Maria Grazia. Ma signora Andrea, cosa succede? Ti lascia andare, ti lascia andare, non le faccio niente. Dove va? Italia, c'è l'Italia! Maria Grazia! Maria Grazia! Ma io l'ho detto per calmarlo. Ma figliola cara, come si fa? Lei confessa di avere un amante, inventa una relazione e poi pretende che suo marito se ne stia bello calmo, eh? L'ho dovuto fare per evitare il peggio. Sembrava impazzito. Può darsi, ma di solito si fa il contrario. Dico bene, Palomira? No, le simili porcate non me ne intendo. Diceva che solo così poteva sentirsi tranquillo. E invece se non fossi scappata mi avremmo uccisa. Ne sono sicura. Su, 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 cara, stia calma adesso, eh. Lei per questa notte resterà qui, poi domani si vedrà. Va bene? Povera creatura. Ma lo so io. Di chi è la colpa? Sì, sei stato tu, sei stato tu, pancaldi. Lo so che sei nascosto là dentro. Beffera di lì, sporco fascista. Palmira. Palmira. Perché non preparo un buon caffè qui alla signora, eh? Sì, hai ragione. Ma non sarebbe meglio una tazza di camomilla? Eh. Certo che l'emai. Ci vuole un calmante e lui dice caffè. Un calmante ci vuole. Non si impressioni, non è niente. Basta interromperla, cambiare discorso e torna subito normale. Mi scusi, Andrea non mi aveva detto niente. Non lo sa. Le poche volte che l'ha vista era sempre in buona. Quando non hai i suoi momenti. È una donna normalissima, sa. Ma è da molto tempo. Beh. Vedi, non è mai riuscito a condurre a termine un parto. E così dopo il quarto aborto. Quelle pancaldi che nomina, era il professore del reparto maternità. Eh, poveraccio, cosa poteva fare lui? Da allora, qualunque cosa succeda, se la piglia sempre con pancaldi. Lo insulta, lo minaccia, gli sposa in faccia. Anche per la morte del Papa, sapesse quanta gliene ha dette. Vede, ho dovuto perfino vendere il televisore, perché tutte le sere litigava con gli annunciatori. E... Mi spiace se l'avete saputo. No, 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 non si preoccupi. Stia tranquilla, anzi, ha fatto benissimo a venire qui. Io sono con lei, sa. Voglio molto bene ad Andrea, ma non lo capisco. Forse perché quelli che come me hanno da pensare ad altro, considerano la gelosia un lusso di chi ha soldi e salute. E chi sarà a quest'ora? Pronto? Ma sei tu, Annina? No. No, è perché avrebbe dovuto venire qua. Quando? Va bene, va bene, veniamo subito. Ecco fatto, lasciamolo riposare. Tra due ore gli faccio un'altra puntura. C'è pericolo di complicazioni, dottore. Non le sembra che ce ne siano state già abbastanza? La frattura è niente, è il suo stato d'eccitazione che mi preoccupa. A che dai però non scherza, eh? Guardi lì, se avessi vent'anni di più la farei io una bella paternale a tutte e due. Mi scusi, il dondolo mi distende i nervi, lo uso come tranquillante. Vuole bere qualcosa, dottore? No, no, grazie. Io non credo di essere una buona compagnia. Se vuole un giornale, una rivista... Grazie, no. Ma cosa devo fare? Me lo dica lei, che colpa ne ho io? Su, 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 sia brava, andiamo, si calmi. Io lo capisco, Andrea. Se avessi una moglie così, sarei geloso anch'io. Eh sì. Sono crisi che si curano col tempo. Qualche giorno e tutto sarà finito. È già tutto finito. Non si può voler bene a chi non si stima. E non si può stimare uno sconosciuto. Andrea non è più l'uomo che ho sposato. È uno che non conosco e non voglio conoscere. Sa dove è arrivato? A proporre a un suo amico di farmi la corte per mettermi alla prova. Ma perché poi le racconto queste cose? Beh, ma è logico. Le racconterebbe a chiunque. Ha solo bisogno di parlarne. Forse è così. Ma è la prima volta che io... Niente, mi scusi. Ma prima non mi aveva offerto qualcosa da bere? E lei ha rifiutato. Beh, adesso accetto. Ma cosa le do? Qui non c'è più niente. E lei ha rifiutato. E lei ha rifiutato. E lei ha rifiutato. E lei ha rifiutato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, il primo che mi è capitato. Sì, insomma, gli ho mentito e gli ho detto che lo tradivo. Che lo tradivo con te. Con me? Tu l'avresti tradito con me? Un momento, come sarebbe? Lui sarà completamente matto, ma anche tu non scherzi, eh? Oh, ti ringrazio di aver pensato a me, ma non lo potevi fare a un altro, questo bel regalo? Lo so, lo so, hai ragione. Ma dimmi tu, cosa dovevo fare? No, no, dimmi tu cosa devo fare io. Ma quando mai noi due sono to' neanche toccato con un dito? Ci fosse stato qualcosa, capirei. Cioè, no, capirei lo stesso, ma almeno... Invece così, con un solo il rischio di farmi sparare da tuo marito. Ma allora non è vero? Cioè, è vero che non è vero? E che io sono un pirla? Gabriele, ti prego, adesso non cominciare anche tu a complicare le cose? Ma sì, ma sì, avrei anche ragione. Buongiorno. Ma tu non sai... Salve. Ma cosa vuoi che gli dica? Guarda su, ci vediamo dopo. Tu credi che non abbia tentato tutto? A parte il fatto che da venti giorni non ci rivolgiamo più la parola. Avanti. Allora, come va oggi, eh? Oh, salve. Bene, bene. Meglio. Però hai una faccia che non mi piace, sai? Ma cosa hai fatto? Ehi, ma sei tutto sudato. Hai sentito che razza di polso? Vorrei vedere te a posto mio. Che cosa vuoi dire? Niente. Sono contento. Sono contento. Beh? Olivetti 44. Sì, ma guasta. Domani la cambio. Hai capito come l'avevo ridotta? Lui ho fatto confessare di essere colpevole, sai come... come voi poterarci sotto le botte della polizia. Io vorrei solo sapere adesso cosa aspetti a chiederle scusa. Eh, sì, una parola. Non è mica facile, sai. Eh, cosa le dico? Guarda che siccome intercettavo le tue telefonate, mi sono accorto di essermi sbagliato. Eh, dalla figura faccia. Ne hai fatte tante. Una più, una meno. Ah, lei puoi dire della contravvenzione. Che hai saputo che la 600 di sera la prendeva Giovanni per andarsene con la ragazza. No, no, no. Sarebbe anche questo una prova di mancanza di fiducia. Sono 20 giorni, sai, che non ci parliamo. Eh, non posso andarla a dire improvvisamente. No, no. Ma è meglio prendere le cose con calma, tempo al tempo. Una parola oggi, una domenica. E così finisci il discorso a Natale. Quando si riconosce di avere sbagliato, mio caro, bisogna avere il coraggio di chiedere scusa. Dai, dai. Tu ora le telefoni. Ma cosa le dico? Una prima cosa che ti viene in mente. Su. Non mi viene in mente niente, dai. Lascia stare. Ah, va bene, allora telefono io. Telefono io, lascia stare. Cosa le dici? Vabbè, le dico che ha intercettato la telefonata di Gabriele. Ma tu sei proprio matto, ti licenzo veramente. No, no, no. Dai, metti giù, metti giù. Dai, dai, parla tu, parla giù. Sì, sì, e lei, dai, parla, e notta le storie, su. Dai. Pronto, Maria Garanzia? Sì, sono io. Come non avevi riconosciuto la mia voce? Beh, io ho ragione. Sì, da stamattina quando sono uscito senza salutarti. Sono cambiato, sono un altro. E ci ho pensato e mi sono sentito così ridicolo. Ridicolo e cretino. Maria Garanzia, è un secolo che non ci parliamo. Ho tante cose da dirti, sai. Bene, dimmele. Non ricomincerai mica con le solite storie. Sì, se ti ho tradito. E Andrea? E non te lo chiederò mai più. Ah sì? Davvero? Sì. È come se la febbre mi fosse calata di colpo, tutti insieme. Perché vedi, solo adesso mi sono reso conto che si trattava di una vera e propria malattia. Però quando è passata, è passata. Ma c'è sempre pericolo delle ricadute? Eh no, perché questa è come una malattia infantile, capisci? Come la scarlattina. Quando l'hai fatta, poi rimani immunizzato per tutta la vita. Diventi adulto. Ma questa non è mica mia. Di chi è? Ah, sarà del dottore, l'avrà dimenticato. Sì, ci sono anche le sigarette. Sì, sì. Ah. Penso se fosse successo due giorni fa. Però immagini che cosa t'avrei combinato. E se ti dicessi che stai sbagliando di nuovo? No, 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 no. E che ti ho tradito? Non ci casco più, cara mia. No, no. Ormai la lezione l'ho imparata. E ho capito che nel matrimonio la fiducia è tutto. La notte che sono partito, non ho dormito pensando a te. Avevo un bel sentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarmi. Temevo di non vederti. Se adesso tu mi lasci affinita per me. Sa chi mi ha parlato di lei? Giorgio. Qualsiasi cosa le abbia detto è un gran bugiardo. Meno male. Mi aveva detto che con lei non c'era niente da fare. Ah, ma bravo. Si è divertita, Cortina? No, ero sempre sola. Senti, domani vorrei andare dal parrucchiere. D'accordo? Ok. E allora quando ci vediamo? Domenica. Prima non posso. Vengo io da te se vuoi. Così possiamo stare insieme tutti il giorno. Lo sa soltanto il cielo perché Dovevo continuare a vivere Lo sa soltanto il cielo perché Ma certo, te l'assicuro. È proprio così, ci si è avviso. Lui ha cominciato da poco, ma io sono anni. Ma no. Sì. Non ci credevo nemmeno io, sai. Eppure ho provato e mi sono trovato contento. Guarda, è come rinasce la nuova vita. È bellissimo. Ma è bellissimo poi. Non mi hai convinto? No, veramente non. E prova. Vieni a caccia con noi e te ne convincerai. Guarda, noi partiamo domenica mattina all'alba. Ficili le spalle. Guadagniamo in salute e ci passiamo una giornata felici e contenti. Non è vero, Mariotti? E come no. Avevo un presentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti. Tomevo di non vederti. Di giorno sono arrivato, non sei venuta incontro a me. Non sai quanto ho camminato, chiedendo a tutti, cercando te. Sentivo di non trovarti. Capivo di non vederti. Lo sa soltanto il cielo perché Dovevo proprio innamorarmi di te. La notte che sono partito Non ho dormito pensando a te. Avevo un presentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarti. Tomevo di non vederti. Se adesso tu mi lasci è finita per me. Tomevo. E sei se questi amici. No preferisco. Iscamo. Finito di non vederti. Sitito. Be